Mi chiamo Alberto Albisetti e sono il direttore dell'azienda co-proprietario. Io vengo da un mondo diverso che è il mondo del commercio della carne. Arrivo alla Paneretta perché mio padre e mia madre hanno acquistato la Paneretta nel 1984 e prima avevamo un'altra azienda che si chiamava Lavacchio. Mio padre è venuto a mancare circa 13 anni fa, nel 2011, e quindi ho deciso di venire alla Paneretta per proseguire la nostra idea di vivere nel mondo producendo, nel senso essendo legati a quello che è la produzione, quindi la terra e il poter dare anche la possibilità alle persone che lavorano con noi di avere la possibilità di lavorare. Muoversi in azienda significa vivere a stretto contatto con il territorio e noi viviamo, penso, siamo un vecchio anticlassico, quindi siamo in Toscana, ma siamo secondo me uno dei più bei territori in assoluto in Toscana. Non lo dico perché noi abitiamo alla Paneretta, ma perché penso che la nostra denominazione, soprattutto la sottozona di San Donato in Poggio, ha delle colline e una vegetazione che non sono riscontrabili in altre parti.